Prima di iniziare il video, vorrei ricordarti di cliccare sul pulsante per iscriverti e di lasciare un like. Grazie! A partire dal 28 agosto 2024, la RAI inizierà a trasmettere alcuni dei suoi canali utilizzando il nuovo standard DVB-T, 2 per il digitale terrestre, in conformità con le direttive del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo aggiornamento non avrà impatto sulla maggior parte dei canali RAI come RAI 1, RAI 2, RAI 3 e RAI News 24, ma coinvolgerà specificamente RAI Storia, RAI Radio, 2 Visual e RAI Scuola. Questi canali saranno disponibili esclusivamente in alta definizione e richiederanno un televisore o un decoder compatibile con il nuovo sistema. Per continuare a guardare questi canali, dovrete eseguire alcune semplici verifiche. Prima di tutto, assicuratevi che il vostro televisore o decoder sia compatibile con il DVB-T 2. Se l'apparecchio è stato acquistato dopo il 22 dicembre 2018, dovrebbe già supportare il nuovo standard. Se i canali test non vengono visualizzati correttamente, sarà necessario risintonizzare il televisore o il decoder. Una volta completata la risintonizzazione, la ricezione di canali in HD come RAI 1 HD, RAI 2 HD e RAI Storia HD confermerà che l'apparecchio è compatibile.